Ciao a tutti, sono Aratus, bentornati sul mio canale e vi voglio ricordare che come di lunedì sera, anche questo lunedì sera c'è il Glitcherwood Super Show, uno show in live su Twitch, YouTube e Hitbox, a seconda di dove andate assieme a Glitcherwood, ovvero Mac, Elux della mente di Elux e stasera purtroppo non ci sarà farci compagnia Mazingazetto 92, ma di soldi di solito c'è anche il nostro amicone, quindi non mancate dalle 9 alle 23.30 su cadgar.net slash live slash Glitcherwood slash Neurotus Games per vedere in contemporanea la live mia e di Glitcherwood, altrimenti potete andare se avete problemi di connessione con Twitch, potete andare su YouTube che streama meglio su il canale YouTube di Mac. Ci vediamo quindi dalle 21 alle 23.30 come ogni lunedì, due giochi in regalo e tre giochi che faremo durante la serata, sicuramente The Binding of Isaac Afterbirth come primo gioco e vedremo che cosa decideremo di proporvi e di giocare assieme a voi questa sera. Ci vediamo alle 9, mi raccomando non mancatevi, aspettiamo, ciao! Ciao!